ciao a tutti e bentornati sul canale oggi video dedicato allo shopping questi primi saldi del 2018 non mi hanno intossiasmato particolarmente infatti ho soltanto due sacchetti questo video sarà piccolo 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 solo questi due sacchetti da OBS questi li avevo già adocchiati prima di Natale e non li ho voluti prendere intenzionalmente perché già sapevo che poi mi sarei pentita di averli pagati a prezzo pieno ho trovato al 30 per cento di sconto due articoli per la casa che sono questo canovaccio 70 x 50 se non erro come dimensione non c'è scritto però è bello grande è grande 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 sì ed è rosso con le stelline bianche questo canovaccio l'ho pagato 6,99 mentre il runner identico costava 9,99 e l'ho pagato 7,99 100 per cento cotone 40 x 120 questa è la metà però eccolo qua da un lato le stelline sono più piccole e mentre dall'altro ci sono le stelline un po più grandi dicevo che li avevo già adocchiati prima delle feste infatti avevo visto che c'era anche il green buele ma non li ho voluti prendere perché comunque costavano un bel po' soprattutto il green buele credo che costasse più di 10 euro e non mi hanno andavo di pagarlo tanto perché comunque ne ho tanti altri quindi ho aspettato i saldi e li ho comunque trovati al 30 per cento da me sono due mondi invece la situazione è diversa nel senso che c'era un po' di roba alcune cose prima hanno fatto 30 50 70 ma in realtà al 70 non c'era molta roba infatti nel primo turno dei saldi non nella prima settimana non ho trovato nulla che mi potesse interessare secondo ribasso cioè quelli che sono iniziati qualche giorno fa quindi oggi è 15 io ci sono stata ieri due giorni fa sabato sono iniziati il secondo turno di saldi il secondo ribasso ho trovato delle cose al 50 per cento e praticamente nulla al 70 per cento non ho preso molta roba anzi tre pezzi ma simili tra loro bollino rosso e bollino verde quindi il bollino rosso è il 50 per cento e il bollino verde inizialmente era il 30 ora il bollino verde è al 50 ho preso due di questi tovaglioli sono quelli da tavola 100 per cento cotone 42 per 42 perché sono quadrati mi interessava diciamo la trama ecco qua sono tipo punto di diamante in un rosa che non è quello che vedete in video perché è un rosa cipria mentre in video sembra quasi grigio quello verdino grigio invece è questo qui che è quello al 30 per cento e ha questa trama d'arco ed è in questo verdino grigiastro ne ho presi appunto due rosa e uno grigio perché non ce n'erano altri questi costavano 2,99 ognuno e li ho pagati il 50 per cento quindi 1,45 ognuno al momento il mio video dei saldi termina qui secondo video 2018 andato vi ricordo che potete iscrivervi ai miei canali social e trovate i link giù nell'info box se non siete ancora iscritti al mio canale youtube seguite le indicazioni qui sotto iscrivetevi e spuntate la campanella per non perdere i prossimi video e sarete aggiornati con un avviso di notifica ciao e alla prossima